Buongiorno, ben ritrovati. Buon inizio di settimana in compagnia del magazine di Telecosta Smeralda. In primo piano il caro voli perché purtroppo con l'avvicinarsi del Natale, lo sapete benissimo, i prezzi dei biglietti aerei riprendono a salire in maniera vertiginosa. Addirittura sfiorano quota 500 euro per passeggero in classe economica in alcune tratte. Da qui la denuncia di diverse associazioni dei consumatori, l'appello all'antitrust, e intervengono anche i sindacati perché chiedono una presa di posizione della regione. Sentiamo. I prezzi dei biglietti aerei sotto Natale prendono il volo. Le tariffe, infatti, soprattutto per viaggiare da e per le isole, registrano picchi in vista delle festività e come ogni anno in questo periodo, per quanti non sono residenti, spostarsi verso la Sardegna diventa un vero e proprio salasso. Ci siamo in Natale alle porte e purtroppo ogni anno si ripresenta sempre il solito problema, quello del caro voli. Non è una novità, oggi ci troviamo con la medesima preoccupazione di sempre perché non si prendono degli interventi strutturali su questa dinamica economica. I voli devono essere più frequenti, con maggiori posti a disposizione, senza slogan, ma concretamente dando più opportunità ai passeggeri. Le tariffe, monitrate da diverse settimane anche dalle associazioni dei consumatori, continuano a salire vertiginosamente. In alcune tratte addirittura è già stata superata la soglia dei 500 euro a passeggeri in classe economica. Impossibile dunque per i cittadini sostenere questi costi in tanti, dovranno rinunciare a trascorrere il Natale con i propri cari. Ma nell'immediato che cosa si può fare? Bisogna aumentare subito il numero di voli, intervistando le compagnie che operano sulla continuità territoriale e mettere nel mercato dei nuovi slot o nel caso capienza di aeromobili maggiori. Raggiungere Cagliari per esempio partendo da Pisa tra andate e ritorno nelle date 23 dicembre e 7 gennaio costa 395 euro, se si parte da Bologna 381, da Venezia 345 e da Torino 297 euro. Prezzi che ovviamente non tengono conto dei costi aggiuntivi per il bagaglio a mano per la scelta del posto a sedere Balzelli che fanno salire ulteriormente il costo del biglietto. Una soluzione al caro voli potrebbe essere quella di prendere misure cautelari d'urgenza nel settore del trasporto aereo così da bloccare quegli algoritmi che fanno impennare le tariffe nei periodi di Natale e di Capodanno e contrastare le speculazioni che puntualmente danneggiano gli utenti in questo periodo. E la Regione qual è il ruolo che può esercitare in questo momento? Un ruolo fondamentale perché è titolare della cabina di regia e ha colloqui con i vettori che oggi operano sulla quantità territoriale. Noi aspettiamo che faccia leva e abbia forza su questi vettori perché è impensabile riproporre lo stesso scenario. Un problema che tocca anche il trasporto marittimo. Se prima a viaggiare in nave veniva considerato un'alternativa all'aereo, ora le tariffe sono assolutamente in linea con i prezzi dei voli. E purtroppo non va meglio per il trasporto marittimo. Stessa dinamica, anche il trasporto marittimo effettivamente risente della sovrabbondanza dei passeggeri e questo si ripercuote sulle tariffe ma anche sulla disponibilità e sulla vera e propria opportunità di venire in Sardegna. Adesso cambiamo argomento perché nei giorni scorsi c'è stata la conferenza regionale per le politiche del lavoro e sono state delineate le linee guida per incentivare e sostenere l'occupazione nell'isola. Si va da misure che riguardano la formazione, il sostegno per le imprese piccole e grandi e l'impegno verso le categorie più fragili, nonché azioni ad occhio proprio per quei settori e per quelle attività che garantiscono subito uno sbocco occupazionale come per esempio quelle dei servizi e del turismo. E' una Sardegna resiliente quella che viene raccontata nel convegno lavoro e sviluppo per la Sardegna un incontro regionale tra tutti gli attori in campo per favorire il processo occupazionale dagli enti deputati all'incontro tra domande e offerta come l'ANPA, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro quella regionale ASPAL, gli enti informatori, le associazioni di categoria. Si fa il punto della situazione e si guarda al futuro con precise scelte politiche tra le direttrici, formazione, sostegno alle imprese, aiuto alle categorie più fragili e a 20.000 piccole imprese ha guardato la regione erogando quasi 190 milioni di euro per superare l'emergenza Covid, la più grande misura di sostegno d'Italia che ha evitato il tracollo dell'economia sarda, ha detto Adalai in apertura del convegno. Ora però bisogna ricominciare con una programmazione di fondi regionali, nazionali ed europei da spendere bene per non interrompere il trend positivo che ha caratterizzato il 2023, più 3% di contratti a tempo indeterminato rispetto al 2022, soprattutto nel settore turistico alberghiero e in quello edile. La Sardegna è inserita nel grande cambiamento globale dove le nuove tecnologie stanno prendendo piede e cambieranno il mondo del lavoro, ma se compreso il cambiamento potrà solo migliorare il modo di utilizzare le nostre risorse nei settori trainanti, dall'agroalimentare all'artigianato e commercio alla portualità e all'economia del mare, quindi turismo, cultura, tradizioni, ambiente. Le direttrici sono tre fondamentalmente. Una è la costruzione delle competenze che mancano perché il lavoro c'è ma purtroppo non si incontra, la domanda è offerta proprio perché non ci sono personale formato e quindi questa è la nostra prima direttrice. La seconda è l'assistenza alle imprese perché l'assistenza alle imprese con gli incentivi per le assunzioni, con gli incentivi per tenere il personale e anche con una semplificazione amministrativa che tarda ad arrivare e quindi la velocizzazione delle procedure, questa è la seconda direttrice sicuramente. Quindi formazione per i cittadini, imprese. La terza è sicuramente quella della coprogettazione con le comunità. Sono le comunità che devono scegliere e devono scegliere in questo momento l'economia che più sa fare, che è l'economia di entità, l'agroalimentare, il turismo, i mestieri del mare, la portualità, la nautica, tutto l'artigianato, tutti i mestieri che sappiamo fare in Sardegna e che abbiamo invece smesso di fare proprio perché abbiamo avuto il miraggio della città e basta. Il ritorno alle economie tradizionali non deve essere però inteso come un passo indietro ma come ritorno ad una vita di qualità ed è in questi luoghi che possono trovare il terreno più fertile le piccole e medie imprese. In Sardegna sappiamo che il tessuto produttivo è fatto proprio dalle piccole imprese per quanto ce ne siano ormai grandi, medie e grandi e questo va bene. Perché le piccole e medie imprese? Perché sicuramente sono quelle che sono più vicine ai mestieri identitari, quelli che sappiamo fare, ma devono imparare anche a consorziarsi perché l'unione fa la forza, perché sostiene l'economia e a questo punto noi infatti mettiamo in atto anche delle politiche in questo senso perché li aiutiamo a stare insieme perché solo insieme riusciremo poi a fare davvero, a costruire questo lavoro che la Sardegna in questo momento diciamo manca un po'. E poi occorre sostenere la grande propensione dell'isola all'alta tecnologia. Il progetto Einstein Telescope potrebbe essere la nostra grande opportunità a cui sono stati infatti destinati ulteriori 10 milioni di euro nell'ultima variazione di bilancio. E allora in questi giorni di festa invece vi invitiamo ad andare alla scoperta di un piccolo museo ma caratteristico, si trova nel cuore di Cagliari in Viale Trento, il museo dei mattoncini della Lego Caralis Brick e offre anche una sezione riservata proprio alle bellezze architettoniche della Sardegna, insomma dei suoi monumenti simbolo di quelli più rappresentativi. Vediamo. Il progetto del museo Caralis Brick nasce dalla passione mia e di un mio socio, praticamente da piccoli abbiamo sempre utilizzato i mattoncini in Lego, era un hobby fino a qualche anno fa e poi da qualche anno è diventato ufficialmente un lavoro ufficiale anche perché abbiamo un museo dedicato interamente ai mattoncini in Lego. Allora il museo prevede innanzitutto una mostra espositiva di circa 570.000 mattoncini esposti con tantissime tematiche che spaziano dal castel, monumenti sardi, una città grandissima, gli acquari, l'area vintage e in più noi organizziamo dei corsi per i bambini di tecniche costruttive, ossia incentiviamo i bambini a utilizzare i mattoncini Lego affinché possano sviluppare nuovamente la manualità, la creatività e la fantasia che un pochino è andata persa in questi ultimi anni con l'avvento di internet e giochi virtuali. Mattocino Lego continua assolutamente a avere il suo appeal, per fortuna è un gioco di intelligenza che i bambini continuano a coltivare e a perseverare anche perché diciamo che i mattoncini Lego si tramandano anche di generazione in generazione e quindi per fortuna è un gioco che attualmente continua, ripeto, a stare sulla cresta dell'onda. L'aspetto più importante dei mattoncini Lego è il fatto che si possa creare ciò che si vuole. Non a caso io realizzo monumenti sardi, monumenti nazionali, quindi tutti i progetti che tramite i mattoncini Lego possono essere ricostruiti. Chiaramente c'è uno studio dietro, ci sono dei progetti molto lunghi, però Lego permette di poter fare tutto questo e quindi è pura fantasia e creatività. Allora, il museo Caralis Brick si rivolge a tutte le fasce d'età. Lego non ha una fascia d'età ma comprende dai 2 ai 100 anni, quindi assolutamente tutti, appassionati anche non, semplici curiosi che vengono a vedere cosa appunto Lego permetta di poter realizzare secondo la propria creatività. Quindi non ha fasce d'età ma è rivolta a tutti quanti. Da una passione quella per il Lego ad un'altra, quella per il cinema perché negli ultimi anni la Sardegna sta veramente sfornando dei talenti, dei giovani cineasti e filmmaker che raccontano la Sardegna attraverso proprio delle storie. Vediamo di cosa si tratta. L'isola fucina di talenti cinematografici e di storie che dalla Sardegna partono e risuonano anche nella penisola, diventano casi di cui si parla e si discute nel bene e nel male, come la storia di Aldo Scardella, un giovane accusato ingiustamente di un efferato omicidio e per questo rinchiuso in carcere in isolamento dove ha deciso di farla finita. La storia di Aldo, divenuto un caso giudiziario, è stata raccontata in un cortometraggio da Paolo Carboni, anche lui della scuola dei filmmaker che sta nascendo in Sardegna. Polvere, il cortometraggio Polvere è desunto da una sceneggiatura per un film di lungometraggio che racconta la calide degli anni Ottanta nel periodo più drammatico, intorno alla metà degli anni Ottanta quando il ferromero dell'eroina diventa incontrollabile e sovverte meccanismi sociali e risveglia una città che viveva in un torpore, in una tranquillità definita così anche da molti scrittori come la città del sole, la città della tranquillità. L'eroina irrompe nella vita sociale dei giovani, diventa un business e la piccola malavita che fino all'ora aveva fatto azioni di piccolo cabottaggio si organizza per gestirne il traffico, per gestire il traffico si deve finanziare. Lo fa attraverso delle rapine e atti delettuosi di questo tipo. Una delettante ci porta alla vicenda di Aldo Scartella che viene accusato ingiustamente di un omicidio avvenuto durante una rapina in un negozio di liquori e viene messo ingiustamente in carcere tenuto in una condizione iniqua per 185 giorni, dopodiché si toglie la vita. La Sardegna diventa perciò non solo una splendida scenografia per videoclip, un ideale location, ma anche un luogo dove trovare maestranze preparate, dove trovare lavoro, si spera sempre di più nel mondo dell'arte cinematografica. La Sardegna negli ultimi dieci anni è cresciuta molto dal punto di vista cinematografico, sia come possibilità di trovare delle maestranze tecniche che prima non esistevano, macchinisti, elettricisti, direttori della fotografia, anche prime figure. E nello stesso tempo sono anche nate delle case di produzione che hanno iniziato a produrre e cercare di affacciarsi a un mercato più internazionale. Una delle tante è la casa di produzione che ha prodotto il mio film, che è Terra di punto, di Tori Cuvedo. La Sardegna esporta anche le sue storie che diventano casi nazionali, storie drammatiche, ma anche esempi di tenacia, costanza, determinazione, come quella che ha dimostrato sempre il fratello di Aldo Scardella, Cristiano, che ha mantenuto alta l'attenzione su quel clamoroso errore giudiziario che è costato la vita ad un giovane, troppo giovane. È stata una fatica, anche una sofferenza per gli ostacoli che si sono dovuti affrontare, però io lo ritenevo un impegno civile, un dovere nei confronti di Aldo, degli altri due miei fratelli morti nella famiglia, ha fatto riflettere, oggi per dire chi era Aldo, basta dire che il suo sacrificio, la sua storia ha contribuito a migliorare il nuovo codice di procedura penale. Tante leggi importanti, come quella dell'isolamento, che ha avuto come iniziatore l'Avvocato Patrizio Rovelli. Il film di Paolo Carboni è stato pluripremiato a Torino, al San Diego Italian Film Festival e sicuramente altri ne avrà nel tempo. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci fatto compagnia e vi rimando ai prossimi appuntamenti con la nostra informazione. Arrivederci, buona giornata. Grazie. 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 Grazie.